Va bene, va bene, silenzio! Lollo, il secondo palo, Lollo! Massimo! Macello! Aspetta, sto a fare il video! A oggi spesi! Tu devi andare… La fidaccia dice Eh, ci tagliamo. Mi sta facendo… Fala dolce, entro! Non ci ha mai sentito. No, non ci sia mai. Temo da fala dolce? Voi dovremmeno… Va bene, va bene. Dai, dai, fanno subito, fanno lo scambio. Lo scambio, lo scambio! Lo scambio! sai non li perdete ma stavano lì in due non c'era nessuno ma lo scambio arriva dentro dai ragà dai ragà dai lollo e tu a lollo e tu a lollo guarda è andato l'hollo è andato l'hollo e' il calollo questa bestemmia non ci voleva prendi nota prendi nota la bestemmia un video sta? si si risenti si dai che lo facciamo dai che lo facciamo dai che lo facciamo buono Fabio uomo 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 Amy uomo uomo bravo bravo vai vai tagliami tagliami ma perché? che ne hai tagliato il secondo parte? bravo Lorenzo torna piano piano torna piano piano bravo ancora vabbè vabbè mi ripiazziamoci uomo tallami tallami talla uomo scapponi dai